E' in edicola giochi per il mio computer con il capolavoro Splinter Cell per vivere da protagonista un incredibile thriller di Tom Clancy. Giochi per il mio computer con 4 cd a 6,90€, con 2 dvd a 7,90€ e nell'edizione budget con il gioco completo Black Hawk Down a soli 3,80€. Non fartelo scappare!